Vuoi informarti, informarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Era esattamente il 3 aprile 1969 quando uscì la Costituzione Apostolica Missale Romanum, con cui Paolo VI promulgò il nuovo sordo della messa. Sono trascorsi 50 anni da allora, ma quale bilancio se ne può trarre? Intende rispondere a questa domanda il prezioso dossier del numero di aprile della rivista Radici Cristiane diretta dal professor Roberto De Mattei. Già i cardinali Ottaviani Bacci presentarono all'allora pontefice e all'opinione pubblica una dettagliata analisi compiuta da un gruppo di teologi della Costituzione Missale Romanum. Il testo è stato da loro accompagnato da una lettera in cui denunciavano un impressionante allontanamento dalla teologia cattolica della Santa Messa, formulata dal Concilio Tridentino, che, fissando definitivamente i canoni del rito, eresse una barriera invalicabile contro qualunque eresia che intaccasse l'integrità del magistero. Radici Cristiane ripropone il testo integrale di questa lettera che non ha affatto perso d'attualità. I timori dei cardinali Ottaviani e Bacci del resto hanno trovato purtroppo conferma nei fatti, come rilevati in un proprio articolo da Don Claude Barth, cappellano del pellegrinaggio su Morum Pontificum, autore di numerose opere riguardanti l'attuale crisi della Chiesa, la liturgia romana e l'esegesi mistiche alla liturgia, tra cui Storia del Messale Tridentino e il recente La Messa del Vaticano II, un dossier storico. Così la riforma liturgica conseguente al Vaticano II, scrive Don Barth, ha brutalmente disperso la favolosa ricchezza della liturgia latina per cercare di far meglio intendere la Chiesa agli uomini di questo tempo mediante un messaggio rinnovato. Essi sono d'altronde rimasti sordi a questo messaggio, mentre gli stessi fedeli hanno iniziato a lasciare le Chiese. Perché? Cosa è cambiato? Circa i contenuti, il nuovo rito produce un effetto di minore senso della trascendenza del mistero eucaristico, di indebolimento della dottrina della Messa come sacrificio sacramentale, di minore adorazione della presenza reale di Cristo, di mitigazione della specificità del sacerdozio gerarchico. Non poco. Ciò nonostante, pur con tutti i suoi comprovati limiti, Papa Francesco ha presentato la riforma liturgica varata dal Vaticano II come irreversibile, quindi definitiva, durante il discorso del 24 agosto 2017 rivolto ai partecipanti alla 68esima settimana liturgica italiana. Eppure, ricorda Don Barth, a tappe nel 1984, nel 1988, nel 2007, le celebrazioni selvagge del culto tradizionale sono finalmente divenute di pieno diritto, di modo che il nuovo rito coesiste oggi con quello antecedente. D'altronde, solo col ritorno alla tradizione e alla fede cattolica autentica, dalle rovine dell'esperimento conciliare, sarà possibile fronteggiare la crisi nella Chiesa che stiamo attraversando. E quanto afferma su Radici Cristiane in un'intervista, il dottor Peter Kwasniewski, docente di filosofia, teologia e profondo conoscitore del pensiero di San Tommaso. Il demonio odia la messa in rito antico perché l'usus antiquior è come un esorcismo perpetuo al diavolo e indica continuamente il trionfo di Dio incarnato sull'antico nemico della natura umana. Il fatto stesso che la nuova liturgia abbia abolito o abbreviato gli esorcismi ovunque siano stati trovati, nel rito del battesimo e in varie benedizioni, nel rito stesso dell'esorcismo, parla da sé. La professoressa Maria Guarini, in un proprio articolo su Radici Cristiane, non esita a parlare di presenti minacce di un colpo di spugna promosso contro il summorum pontificum, di recente ad esempio tramite concetti quale quello di collegialità oppure tramite la modifica introdotta dal motu proprio magnum principium al canone 838 del codice di diritto canonico sulle competenze della Santa Sede, delle conferenze episcopali e dei vescovi diocesani nell'ordinamento alla liturgia. In seno alla conferenza episcopale italiana alcuni vescovi caldeggiano già la suppressione del summorum pontificum, mentre il teologo Andrea Grillo auspica l'abrogazione del documento applicativo Universa Ecclesiae, vanificandone l'efficacia. Non finirà dunque mai, si chiede alla professoressa Guarini, la stagione postconciliare dell'assorbimento acritico o passivo di scelte teoideologiche imposte in nome del concilio con l'autoritarismo nelle vanguardie guerrite che decenni fa hanno cominciato a enfatizzare la democrazia nella Chiesa, che decenni fa hanno cominciato a enfatizzare la democrazia nella Chiesa e che oggi, che stiamo per arrivare al punto di non ritorno, si è trasformato in una tirannide ormai difficilmente estripabile, almeno umanamente parlando. Un numero davvero da non perdere dunque quello di aprile del mensile Radici Cristiane per capire come i timori di ieri siano puntualmente diventati gli incubi liturgici di oggi, ma anche per le molte altre notizie contenute nella rivista su altri temi di particolare attualità e di uguale interesse. Si parla ad esempio di morte cerebrale, di ISIS, più vicino a casa nostra di quanto si possa immaginare, e ancora interviste a nomi illustri del giornalismo nazionale, come quello del vaticanista Aldo Maria Valli. Tutto questo e molto altro su Radici Cristiane. Acquistalo subito online o sottoscrivi un abbonamento cliccando su www.radicicristiane.it vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.